1 Ho vinto! Che fortuna! Guarda Davis, secondo me questa telecamera ci farà fare il salto di qualità Sì ma costa troppo, chi li ha tutti sti soldi? Io ovviamente E poi guarda, è scontata e ha persino spedizione gratuita Allora prendiamola Aspetta però, ho appena mandato Alberto a ricaricare la Paypal Che c'è? Che cosa hai fatto? Ehi che cosa ho fatto di male? Che cosa hai fatto di male? Hai mandato Alberto a ricaricare la tua Paypal Ma quanto sei deficiente Porca di quella! Beh, ciao ragazzi Teo, perché sono di freddo? Dove sono i miei soldi? Dove sono i miei soldi? Sta tranquillo, li ho spesi tutti Ho svuotato la tua Paypal Però, li ho spesi molto bene No, ma avete visto cosa ha fatto? Ha speso tutti i miei soldi per comprare quella cacata E voi mi avete impedito di ucciderlo E ma se sei disabile mentalmente cosa ci puoi fare? Mi dispiace Teo, ma devo essere ragione Beh Teo, almeno fammi dire cosa ho comprato Ho comprato dello sterco di Donnola Scusa, puoi ripetere? No, niente Stavo cazzeggiando su Amazon Quando mi sono imbattuto sullo sterco di Donnola Così ho letto un po' la descrizione E c'è scritto che sei mangiata Donna di mortalità Allora, per sicurezza Ho letto un po' i commenti Le recensioni E c'è scritto che funziona al 100% Ok, o questo è scemo O ci sta prendendo tutti per il culo E devo dire che io l'ho assaggiata Ed è davvero deliziosa Oh cazzo, ragazzi, è seduto per davvero Che ridete, è seduto per davvero Emanuele Sì Dove si trova tu sai chi? Chi? Alberto È il soggiorno con Riccardo e Dennis Cosa? Fermati Oddio Si è alzato finalmente Anche io, Emanuele e Riccardo abbiamo mangiato Lo sterco di Donnola Siete tutti i miei traditori Tu in primis, Alberto Adesso per il Fabio ti chiamerò Giacomo Mario Grazie a te sono povero adesso Grazie mille, eh Tieni, ti assaggio Che schifo Dai, non aver paura No, dai Non fare la femmincia Ma questo è cioccolato E cosa pensavi chi fosse? Era tutto uno scherzo Noi sapevamo tutto Tranquillo Ci sono ancora i tuoi soldi Voi sapevate tutto E non mi avete detto niente Oddio 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 Ho mandato Alberto in banca prelevali No, rifacciamo Che cosa ho fatto? No, vaffanculo, stavo ridendo A Cristo no, scusate Cosa hai fatto? Hai mandato Alberto a ricaricare la tua Paypal Ciao ragazzi Ma che cazzo Bella questa Vai andate Sì, sì Oddio, sulleva Ok Che cazzo lì? Che cazzo vuoi che sia?